Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova apertura di Animal Action 3D Card Cominciamo Ok, ho tolto lo Psyduck perché nei video precedenti mi hanno segnalato come spam perché gli faceva troppo paura No, sto scherzando Allora, cominciamo l'apertura Ecco, ovviamente non l'ho vista Allora, ovviamente se non esce, se non ce l'ho metto la canzone We Are The Champions Allora, apro Se riusciamo Vediamo 3, 2, 1 Ok, abbiamo trovato un fenicottero Oh, baccarino Intanto apriamo Ovviamente qua dicono tutte le cose, le caratteristiche, le mosse Boh, sembra tipo il Pokémon Qua lì c'è sempre tutto in descrizione, qualcuno dice no E niente E nella scorsa apertura abbiamo trovato tutti questi E ora si è aggiunta alla nostra collezione questa E per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo